Quali sono i diversi tipi di cartelle cliniche elettroniche o oftalmiche? I vari tipi di cartelle cliniche elettroniche o oftalmiche o di cartelle cliniche elettroniche più comunemente disponibili per gli oculisti includono molti degli stessi obiettivi e obiettivi, con diverse presentazioni e metodologie centrate sull'aiutare gli uffici oftalmici a fornire assistenza sanitaria di qualità ai pazienti. Le cartelle cliniche elettroniche o le cartelle cliniche elettroniche sono sistemi di archiviazione digitale che raccolgono informazioni sulla salute dei pazienti in formato digitale. Questi documenti aiutano i medici e altri a servire i pazienti in modi diversi. Alcuni dei più comuni tipi di cartelle cliniche elettroniche oftalmiche sono sistemi multimediali e relative versioni di software oftalmico. Alcune versioni di cartelle cliniche elettroniche oftalmiche sono visive, incluse immagini grafiche per la marcatura di diagnosi o altri elementi di cura, mentre altre sono più basate sul testo. Altri tipi di software per cartelle cliniche elettroniche oftalmiche comprendono diverse interfacce come l'operabilità touchscreen e gli elementi di riconoscimento vocale. Altri tipi di cartelle cliniche elettroniche oftalmiche comprendono sistemi portatili o non portatili. I sistemi software oftalmici portatili sono quelli che possono essere spostati in modo indipendente attraverso varie stanze e spazi all'interno di un ufficio o di una struttura. Tutti questi sistemi hanno le loro specifiche interfacce, che fanno molte differenze a coloro che usano queste tecnologie. Molti professionisti identificano i tipi di strumenti di registrazione medica elettronica oftalmica secondo le caratteristiche che forniscono agli studi medici. Alcune di queste funzionalità includono funzionalità della lista di lavoro, miglioramento della fatturazione del software e funzionalità di conformità HIPAA. Tutti questi forniscono funzionalità aggiuntiva ai sistemi software oftalmici. Un altro elemento principale nel modo in cui gli esperti identificano i tipi di cartelle cliniche elettroniche oftalmiche riguarda il modo in cui sono adattati a specifici esami della vista o esiti del trattamento. Alcuni sistemi dispongono di strumenti più robusti per gli esami, mentre altri tendono a concentrarsi sulla documentazione del trattamento per i pazienti di ritorno. Le aziende costruiscono singoli prodotti con caratteristiche definite per fare appello a diversi servizi medici e diversi uffici clienti. Insieme a quanto sopra, un altro elemento dei tipi di cartelle cliniche elettroniche oftalmiche riguarda il modo in cui i record vengono archiviati. I sistemi software ASA Service OS e AASH memorizzano i dati nei server dei fornitori remoti. Altri sistemi possono prevedere l'archiviazione locale. I professionisti che desiderano scegliere tra tipi di sistemi di cartelle cliniche elettroniche oftalmiche devono valutare pienamente i rischi di un determinato tipo di stoccaggio e costi che saranno coinvolti. Tutti questi aspetti determinano diversi tipi di software per gli oculisti consulenti di record medici elettronici possono aiutare un ufficio a scegliere i sistemi che meglio si adattano alle loro operazioni esistenti. In alternativa, i leader aziendali possono riunirsi e fare brainstorming per un acquisto specifico, esaminando tutto ciò che i vari sistemi di cartelle cliniche elettroniche forniscono.